Sì, 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 prego. No, non ti farei la mano, ti frego. Dai, vai venire qua. Torniamo a letto? Dai, su, brigati, suono. Guardi, sul tavolo ti metto. Faffanculo. Enel, buongiorno gentile cliente. Disturbo? Sì, veramente. Complimenti, permette signora? Disturbo, quindi... Dunque, volevo sapere, ma voi siete soddisfatti del vostro contratto? Non lo so, soddisfatti... È venuto qua per chiedere questo... Certo, gentile cliente, perché noi di Enel ci preoccupiamo soprattutto della vostra soddisfazione. Mi scusi, non mi sembra... Ma non trova che il vostro contratto sia una cosa fantastica? Sì, straordinario. E che ne dice? È il prezzo della componente energia bloccato per ben 12 mesi. Senti rimanere a bocca aperta. È proprio così. E una volta all'anno potete cambiare taglia di valore mensile a titolo completamente gratuito. Non solo, ma alla fine dei primi due anni di fornitura riconosceremo un importo pari al valore della taglia che avete scelto. Da non crederci. E invece è tutto vero. Grazie Enel, avete diritto a una montagna di energia pulita e al risparmio garantito. Ecco un piccolo cadeau per il disturbo. Perché noi vendiamo energia come molti. Ma come la produciamo noi? Non la produce nessuno. Buona giornata, gentile cliente. E grazie per aver scelto Enel. Perfetto. Enel produce il 40% dell'energia del carbone perché garantisce... Forte competitività economica. Bravo. Sicurezza in fase di estrazione e movimentazione. Bravo. Bravo. Ampe disponibilità in bari. Certo, tutto si può dire, forne che il carbone sia pulito. Amore, amore, che succede? Più pulito di così, se muore. Vuoi mostrarmi la tua ombra? Vuoi strisciare un po' qui, qui con me? Vuoi dirmi chi sei? Vuoi dirmi che vizio hai? Dai, morbido è il frutto sai, la tua tentazione ormai è nel mio regno. Dai, sono il nome dei tuoi guai, nessuno saprà mai, solo per noi. E Anしました Grazie a tutti. Grazie a tutti